Sono le 11 di sera, sono a casa mia, ho appena terminato di fare un lavoretto e finalmente ho trovato il tempo per potermi dedicare a questo che è uno dei soliti pacchi che mi spedisce il recfoto per chi non sa che cos'è il recfoto è uno dei più grandi portali online di vendita usato vendita acquisto usato, fotografico e video quindi vi lascio il link qui sotto in descrizione per potergli dare un'occhiata ma vediamo cosa mi hanno mandato e poi special modo il perché mi hanno mandato l'Apolo DRC Foto una XT30 che io ho già provato ma c'è un motivo per cui me l'hanno rimandata ed una XT3 quindi ho insieme le due sorelline, la sorella maggiore e la sorella minore e tra le altre cose io ancora non ve ne ho parlato ma io la XT3 l'ho avuta per quasi tre settimane perché l'avevo acquistata poi preso dall'utilizzo di un'altra tipologia di camere ho fatto un altro cambio ma perché mi hanno inviato questi due gioiellini? beh c'è un motivo ben specifico ed è questo un utente di RC Foto gli ha fatto una domanda la domanda beh la vedrete nel video dedicato in cui parlerò e comparirò queste due piccoline la XT3 e la XT30 l'una la sorella minore dell'altra ma è vero? cioè è proprio così? sono due sorelle minori? beh questa cosa la scoprirete nel video dedicato e quindi per stasera è tutto è stato un velocissimo unboxing di cosucce piccoline oddio tanto piccole non sono sono più felice per la polo di RC Foto che per le due bambine perché per le due bambine non è vero sono felicissimo per le due bambine perché è sempre bello avere dei giocattoli con cui giocare e ce ne sono ancora tanti altri in arrivo quindi questo è proprio uno di quei vlog dove si fanno solo unboxing si parla solo di cose nuove che arrivano andiamo al prossimo unboxing sono passate 24 ore e come potete sentire dal casino in questa stanza ho dovuto montare un condizionatore portatile questo perché ragazzi fa davvero tanto caldo io riesco a far video solo di sera devo farvi vedere un mio ultimo acquisto o meglio più che acquisto un ritorno di fiamma perché quando ho venduto la giacca 5 avevo dato via tutte le ottiche che avevo lenti che a mano a mano ho riacquistato tutte quante e la fortuna vuole che dove avevo dato in permuta le lenti ossia la fotoema erano tutte quante disponibili ancora alla vendita come usato e quindi sono andato a riprendermi il 714 di Panasonic 714 che è un grand'angolo fantastico l'unico problema è che è f4 per micro 4 terzi ma la cosa bella è che è un ottimo grand'angolo perché è una focale che ha massima apertura del 14 mm su full frame naturalmente ed è leggerissimo quindi è ottimo per vlogging io adesso sto utilizzando il 1240 della Olympus che si è f2.8 ma è pesantuccio ed è piuttosto stretto perché mi sento costretto in questa focale ma non è assolutamente male anche questa anzi è una lente davvero fantastica ritorno in questa stanza dove qui c'è il nuovo setup con cui giro il parlato dei video che purtroppo non è comunque bello pulito come speravo non è esente da rimbombi perché questa stanza purtroppo ancora rimbomba io speravo che parlando in questa nicchia in questa nicchia dove praticamente posso attenuare tutte le parole che dico non andassero cioè rimanessero qui le mie onde vocali invece basta che sto leggermente più fuori e tutto comincia a ballare avanti e dietro ma ora sono qui sono le 10 di sera come già detto nella clip precedente sono di nuovo di sera il giorno successivo per registrare dei video che dovranno uscire sul canale questi video naturalmente parlano delle Fujifilm che sono qui sopra qui abbiamo una X-T3 e una X-T30 ora le spacchetto e ci faccio qualche clip ci faccio qualche clip per i video da realizzare e anche stasera è fatta ho fatto le riprese qui sul tavolo ah scusate ho cambiato obiettivo ecco perché il 14 mm il 7-14 per riuscire a stare più all'interno dell'inquadratura e fare un bel faccione grosso allora sono riuscito a terminare le riprese che dovevo fare qui nella stanza dei rumori con il condizionatore acceso ho ripreso le bellissime la bellissima X-T3 e la fantastica X-T30 le due sorelline chi più grande chi più piccolina non voglio dilungarmi oltre perché anche per oggi è andata penso che ci vediamo domani di sicuro in questa stanza non c'è eco e di questo ne sono piuttosto certo perché è una sala insonorizzata che abbiamo in ufficio per la post-produzione quindi dove facciamo color montaggio e facciamo anche un po' di post-audio quindi qui sicuro che non c'è rimbombo perché ho scelto un posto così professionale per fare un unboxing sì perché questo è un video completamente dedicato agli unboxing perché mi sono arrivati due pacchi uno e un altro e qui tutte e due abbastanza tecnici allora il primo lo apro già l'ho aperto perché dovevo controllare se Amazon aveva inviato quello corretto è una SD direte che c'è di strano beh è una SD da 300 da 300 megabits in lettura ciò significa che scrivi anche molto velocemente è una HS2 costa un botto di soldi ed è indicata per macchine che registrano in 4K in progresso in camera e quindi che cosa ne devo fare se io utilizzo una GH5 beh perché è arrivato questo che apriamo velocemente insieme di sicuro l'avrò messo nel titolo ragazzi ho preso una Blackmagic cinema camera pocket 4K ok mi dovrei fermare qui perché dovrebbe essere soltanto l'unboxing dello scatolo ma non ce la faccio sono talmente scimmiato da questa cosa che devo per forza dico siaperla perché sono curiosissimo oltre che provarla e poi utilizzarla sono curiosissimo di vedere com'è il feeling in mano di questa camera vabbè scatola non troppo elegante giusto cartone allora andiamo ad aprire vediamo un pochino cosa c'è all'interno vediamo se riesco a scendere un pochino ok abbiamo welcome licenza di Da Vinci che dovrei potervela far vedere perché esce insieme ad ogni camera Blackmagic una licenza Da Vinci io già ne ho due ma una in più non fa mai male me la metto sul portatile così non ho bisogno della chiavetta poi adattatori per la corrente penso per il caricabatterie l'alimentatore con un un lemo a due poli femmina perché sono attacchi particolari una batteria di quelle lì della 5D per intenderci Canon io di sicuro prenderò l'adattatore italiano all'alimentatore il resto possiamo anche chiudere perché tanto chi se ne ha come si chiude non lo so Da Vinci poi ce lo portiamo a casa qui che cos'è il software manuali ok alziamo il primo scatolo e troviamo la camera camera davvero fighissima qui in automatico si è tolta la plastichina da dietro neanche la voglia di farla io di toglierla io perché probabilmente si era incollata col caldo ma spettacolare una tenuta in mano pazzesca schermo gigantesco dietro ma davvero gigantesco wow ed ora sono curioso di provarla altro giro altra corsa altro unboxing oggi sono passato un paio di giorni sono a casa mia e sto lavorando per questo grande progetto che sto affrontando di cui vi parlerò in un altro video probabilmente un video dedicato a questo progetto perché è davvero molto grande per il quale ho fatto tantissimi cambiamenti uno dei quali è creare una postazione da lavoro a casa perché lavorare solo di giorno non mi basta più e quindi ho fatto delle spesucce in verità ho fatto una spesuccia mentre c'è un altro pacco che mi è arrivato e quindi essendo un video di unboxing vediamo che cosa devo scattare allora sul mio tavolo da unboxing ho due scatoli oltre al mio 10 centesimi che serve per svitare le piastre da sotto alla camera ho questi due pacchi uno mi è stato inviato ed è questo mentre l'altro l'ho acquistato io acquistato per il lavoro che sto facendo come sapete io sono un digital artist quindi lavoro molto con After Effects e ho sempre utilizzato tavolette grafiche io avevo una Intuos Pro S di qualche anno fa che purtroppo ha fatto il suo quindi era datata ed ho comprato la nuova Intuos Pro sempre S S perché è più piccolina quindi un riquadro a 6 perché io lavoro con la manualità della penna ma non devo disegnare quindi a me si è bella manualità della penna ma non la grandezza del foglio quindi ho preso la più piccolina che comunque ha un bel costo vi lascio qui sotto il link in descrizione se volete capire come è fatto per farvi capire la tavoletta è così Bluetooth ed è un prodotto molto interessante io quando si parla di tavolette grafiche preferisco consigliare sempre la Wacom perché i prodotti sono davvero fantastici mentre quest'altro mi arriva vediamo un pochino se riesco a farvelo leggere da Polar Pro Polar Pro per chi non conoscesse il brand è un'azienda americana che produce filtri per lenti fotografiche anche special modo per droni GoPro e chi più ne metta mi hanno contattato perché vogliono hanno voluto realizzare una collaborazione con me io contentissimo ho detto bene mandatemi qualcosa e quindi mi è arrivato il primo pacco io non ricordo esattamente loro cosa mi hanno proposto andiamo ad aprirlo va bene allora mi hanno inviato eccolo qua si ok adesso ricordo esattamente cosa mi hanno detto mi hanno inviato il polarizzatore circolare della loro linea quartz line questo è un polarizzatore circolare molto ma molto ben fatto davvero ben fatto e dato che loro hanno determinati set di di filtri quindi hanno i filtri da 77 da 63 soltanto alcuni non hanno tutte le misure mi hanno inviato anche l'anello adattatore da 62 a 77 millimetri perché una lente da 62 millimetri e quindi posso attaccare questo questo sulla mia lente che sarebbe il 1240 della Olympus e su questo ragazzi torneremo finalmente a parlare di filtri e torneremo a parlare del polarizzatore in una maniera un po' particolare ed entreremo di nuovo in quel mondo dei filtri che è fondamentale nel frattempo vi lascio qui sotto il link in descrizione per poterlo acquistare è sabato e io sono andato un pochino a mare a fare un pochino di rilassarmi un pochino in attesa delle settimane che verranno e da tre settimane che verranno nella mia casa ancora in costruzione ho dovuto attrezzare una postazione da lavoro ed ecco quindi che vi mostro con questo piccolo aggiornamento quella che è la mia nuova postazione da lavoro dove praticamente ho recuperato il pc che avevo assemblato a novembre facendo delle piccole modifiche cambiandogli soltanto la scheda video all'interno perché la 1080 Ti l'ho tenuta in ufficio poi vi mostrerò il perché con il prossimo unboxing forse e ho assemblato qui la mia postazione da lavoro in casa e ne sono davvero davvero contento avevo bisogno di più potenza all'interno del Mac per questo avevo preso questo che è praticamente il Raze Core X che è praticamente un case esterno per GPU ma purtroppo non funzia con la iMac Pro che sto utilizzando quindi mi è praticamente diventato inutile e quindi non mi rimane che rimboxarlo e rimandarlo dietro ad Amazon mi dispiace davvero tanto perché pensavo fosse una soluzione adeguata alla mancanza di schede Nvidia per iMac ma a quanto pare funziona soltanto con iMacBook Pro e io che non ho iMac non lo posso fare giuro che questo è l'ultimo sono arrivato ad agosto in pratica dovevo chiudere questo video a luglio ma mi sono spostato fino ad agosto per colpa del lavoro e non sono riuscito a terminarlo e quindi mi ritrovo di nuovo in una sera calda di agosto a fare un altro unboxing questa volta di una cosa che non mi è arrivata per posta ma che ho ritirato io dagli amici di Fotoema qui a Napoli andiamo subito a vedere che cos'è vabbè dai ragazzi ve la spoiler ho preso la nuova RX100 Mark VII di casa Sony la compatta delle compatte che praticamente la a parte il fatto che è arrivata oggi e l'ho ritirata oggi quindi sono stato uno dei primi a riuscire a metterci le mani sopra sono molto curioso di provarla sia come camera personale per fotografare i momenti perché la giacca 5 è fantastica ma è poco portatile è piuttosto ingombrante dato che a volte è molto comodo avere una camerina piccolina in mano anche per le fotografie di tutti i giorni perché non mi fa impazzire utilizzare lo smartphone per fare fotografia sempre quindi avere una compattina super potente questa lo è super potente non è assolutamente male soprattutto se poi finalmente hanno messo il jack per le cuffie ma andiamo subito a vedere cosa c'è nella confezione bene ecco a noi la scatola che già ho desigillato perché dovevo controllare dovevo controllare la sigla dovevo controllare la sigla della batteria per prenderne altre questa è la fatturina dei nostri amici di Fotoema questi sono le varie cavetterie i vari documenti che troviamo all'interno e poi signori c'è lei regina delle regine vorrei dire sempre verde Sony RX100 che ha sostanzialmente sempre lo stesso identico design del modello precedente parliamo quello della RX100 Mark VI un mirino un viewfinder davvero fenomenale un flash integrato che si apre qui sopra dall'alto e la cosa le due cose fantastiche sono uno l'ottica che è 24-200 mm e l'altra ragazzi è questa il jack per le cuffie e sì questa camera è fantastica proprio perché finalmente hanno pensato anche ai youtuber sapendo che questa è una delle camere più utilizzate dei youtuber per fare vlogging per fare shoot on run quindi riprese in corsa ragazzi ed è una camera davvero fantastica in confezione non troviamo altro che un cavetto usb per la ricarica in camera cosa strana che ho notato è ancora usb micro usb non hanno ancora implementato un usb di tipo c multifunzione cosa molto strana un alimentatore da parete di casa sony da 1.5 ampere non male anche perché le batterie sono piccoline troviamo un laccettino che andrò a mettere prontamente accanto alla camera infine qui sotto qui troviamo batteria e troviamo ah troviamo i legacci per poter da mettere queste nei suoi punti per poi attaccare un'altra collina beh amici con questo giuro che abbiamo terminato gli unboxing di questi due mesi in pratica perché perché il tutto si è protratto fino ad agosto quindi ora me ne vado un pochino in ferie e cerco di rilassarmi anche se ho i progetti che davvero mi stanno massacrando quindi cos'altro dirvi se avete delle domande potete scrivermi qui sotto nei commenti non dimenticatevi di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto per seguire tutti gli altri video non dimenticatevi anche di seguirmi su tutti gli altri social beh cos'altro dirvi ci vediamo prossimamente con un nuovo video prima di chiudere questo video voglio fare un ultimo unboxing un po' particolare essendo sabato un sabato di agosto io ho ordinato delle cose ieri su Amazon e in pratica a parte che mi sono completamente sottoesposto va bene non fa niente dato che la portineria dell'ufficio è chiusa ho deciso di farlo consegnare ad un Amazon Locker cioè uno di quegli armadietti di Amazon che è praticamente un centro commerciale aperto 24 ore su 24 quindi ora vado lì per la prima volta provo anche a prendere un pacco anzi due dall'Amazon Locker e poi facciamo un veloce unboxing in auto ok lui si chiama Erasmo sta scritto qui sopra qua quindi vediamo un pochino come si fa tocca per iniziare io però ho il cellulare con i codici a barra in tasca il tuo pacco è pronto sono disponibili due pacchi apri alloggiamento 1 e alloggiamento 2 oh oh mio dio effettivamente ha funzionato c'era Erasmo che mi ha dato i miei due pacchi divertente il fatto di dare ad un ad un a-locker un nome beh facciamo un veloce unboxing così chiudiamo definitivamente questo video avendo preso un RX100 Mark 7 mi sono prodigato facendo l'auto un po' d'aria condizionata perché fa molto caldo ho acquistato se la riesco a tirarlo fuori allora prima di tutto carica batterie patona che non può mai mancare perché è comodissimo usb piccolino e un paio di batterie extra anche se ho due batterie originali ma un paio di batterie extra non fanno mai male perché purtroppo queste piccole macchine consumano davvero tantissimo il primo è andato mentre il secondo è la cosa di cui sono più curioso è questo un mini microfono TRS 1 8 che può andare in questa macchina ed è piccolino piccolino non ha bisogno di slitty o show di cose in particolare quindi sono molto curioso di provarlo e anzi dato che sono un tipo troppo curioso lo apro perché tanto è minuscolo prendo porta dentro sia il microfono che praticamente un microfono con un jack che si può piegare di 90 gradi e porta anche la 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 su antivento che vado prontamente a mettergli sopra tutto questo naturalmente lo trovate in descrizione vi lascio il link perché se è funzionale all'utilizzo è davvero molto interessante messo l'antivento adesso faccio lo switch e cambiamo microfono microfono cambiato ho fatto forse un po' di casino sono curiosissimo di sapere come si sente questo microfono se si sente meglio o si sente peggio per ora sto registrando soltanto questa clip poi potete giudicare se so voi o probabilmente ne parleremo più avanti quando faremo il video dedicato a questa macchina